bentornati su my football jersey quest'anno dal paris saint germain sono andati via tantissimi campioni è rimasto tra gli altri il grandissimo mape questa però è la terza maglia che secondo me è veramente molto bella in edizione fan iscriviti al canale Cosa ne pensate nella baglia? Fatemi sapere nei commenti se vi piace o meno. Io devo dire che trovo sia molto bella, fatta sicuramente molto bene, con tutti i particolari al posto giusto. Qui in alto vedete il costo, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete avere qualche dettaglio in più, trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, e quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure. Se in futuro volete vedere altre recensioni come queste, mi raccomando, vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Atteneremo! Atteneremo! Ate Grazie a tutti